ciao a tutti ragazzi e amici di pillole finalmente si va in ferie però prima di tutto bisogna fare la valigia e onestamente sono un po' in difficoltà domani partiamo per minorca e l'unico problema è che andando con un volo is jet dobbiamo mettere tutta quella roba il problema non sono tante vestiti ma tutti gli accessori del drone e il computer che mi servono per filmare vabbè adesso magari mi aiutate mi date una mano a fare sta valigia vi prego si purtroppo il mio armadio è solo questo per il momento asciugamani per il mare ok la valigia è piena pigiama costumi da bagno li porto tutti e quattro ma si ma no fa caldo minorca pantalone nero questo immancabile sono un po indecisa mi piace ok ragazzi passiamo all'attrezzatura elettronica dobbiamo andare al mare quindi portiamo sicuramente il dom osmo mobile per fare la ripresa in carica il drone mavic pro telecomando drone carica batterie luce per riprese notturne e anche subacquea il bagno di mezzanotte in mezzanotte porto il mio mac l'altra gopro cavi 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 ok abbiamo finito la valigia dimenticato qualcosa vabbè ragazzi ci vediamo direttamente a minorca al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.